Allora questa è la fiancata la sto riprendendo questa è una punta che però è stata creata ovviamente caricando il materiale all'interno del furgone lo sto spianando il più possibile poi il carrozziere luciderà seppierà con la 2000 con la 3000 luciderà e porterà il furgone al meglio possibile questo è un furgone che mi comunicano da rivendere quindi già il carrozziere ma se sbagliato mi ha detto vieni che c'è un ducato da fare vieni che c'è uno scudo da fare alla fine non è uno scudo era un ducato che è più grande però vabbè poco importa questa è una lavorazione che per favore per favore al carrozziere faccio per 250 euro quindi non sono a prezzi standard però è un carrozziere che conosco da anni faccio volentieri questo prezzo quindi qua verrà applicata una ventosa verrà portato più in piano possibile spianato col martello qui tutte le punte andranno ribattute a martello e niente domani mattina penso la lavorazione sarà terminata se vi interessano lavorazioni di questo tipo furgoni che nessuno vuol fare contattatemi non è un problema li facciamo qua invece è un difetto faccio vedere se si vede perché le macchine non sono perfette è un difetto di stampo un difetto una caratteristica proprio dello stato quindi questo non è un bollo volendo si potrebbe ripristinare nelle case automobilistiche ci sono i lavabolli che a fine catena di produzione ripristinano questi piccoli questi piccoli diciamo inconvenienti questi questi piccoli bollini diciamo qui a forza di chiudere la porta magari il bollo sia anche potuto creare quindi queste sono imperfezioni di di stampaggio anche di lamiere ci sono delle lamiere in alcuni punti per forza di cose giuntate e quelle vengono nelle case automobilistiche migliorate dai lavabolli quindi lavabolli non solo vanno nelle carrozzerie a lavorare lavorano anche nelle case produttrici se video di questo tipo vi interessa non fatemelo sapere condividete quindi queste sono tutte le punte di carico se vi interessa attrezzatura fatemelo sapere adesso ho comunque poco tempo di farlo ci saranno le prossime settimane i corsi avrò un po più di tempo per per seguire per seguire i corsisti ci vediamo nei prossimi video ciao ciao ciao